le mie prossime tre letture foglie rosse un viaggio nel folklore russo ambientato durante la seconda guerra mondiale in Siberia dove i morti ricominciano a camminare tra i vivi e vabbè niente sembra scritto apposta per me ci sono un sacco di ingredienti che a me piace leggere nelle storie quindi era obbligatorio leggerlo guardati il racconto di un rapporto padre figlia con la figlia alla ricerca di una propria identità accompagnata in tutte le fasi della propria vita dallo sguardo di disapprovazione del padre e alla fine muoiono che aspettavo da tantissimo tempo perché adoro Lulubi seguivo tutto il work in progress di quest'opera l'autrice è andata a scavare a ritroso nel tempo fino ad arrivare alle origini delle fiabe classiche scoprendo che a noi sono arrivate soltanto delle opere molto edulcorate e a prova di bambino nessuno ci ha mai raccontato infatti di come le due sorellastre di Cenerentola pur di riuscire a infilare la scarpetta si siano avuto mutilate e nessuno vi avrà mai raccontato come si è salvata in realtà Cappuccetto Rosso voi quale di questi avete letto? quali leggerete? cosa vi è piaciuto di più? fatemelo sapere nei commenti